Benvenuti al nuovo appuntamento con il Joker Marino, questo è un mio scritto, un mio pezzo che sarà tramandato ai posteri, ai posteri! Io mi schiero contro tutti i potenti razzisti, omofobi, sessuofobi, moralisti! Sì sì, adesso ci sentiamo il sottofondo dello splendido finale della rimonta, fagli un culo così fagli! Dell'allenatore nel pallone, col grande Aristoteles, il più grande giocatore da tutti i tempi, in quanto brasiliano, no? Brasil! Vai vai! Vado! 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 E l'arbitro dà i segnali di chiusura, è finita! La longobarda resta in ferie A! Vero film culto! Sì, non ci sono solo i capolavori di Stanley Kubrick, di Clint Eastwood, di Martin Scorsese, no? Di Paul Schroeder, ci sono anche le cazzatone, le cazzatore che mettono di buon rumore! Madonna l'ingoraneta! Di Foggia! L'allenatore nel pallone, col grande Aristoteles! Vero cult movie! Ok, 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 scusate, mi sono perso perché devo trovare il pezzo, tutti questi scritti qui! Allora, il nome della rosa e il nome del rosso, Rosso Mapelo, di Giovanni Verga! Non so se avesse una, però, insomma, il nome del rosso, il grande Aristotele, Aristoteles! Sì, secondo la versione cinematografica del libro di Umberto Eco, adesso ve lo recito come Lino Benvi, il nome della rosa, cioè Pasquale Zagarie, il nome della rosa non è altro che il nome della fanciulla ignota, ignota! Questa è la versione detta dagli sceniciatori dell'opera di Anouk Chakun. Eco, adesso recito con tanto di Eco, con tanto di Eco. Eco, invece, aveva scelto questo titolo, assolutamente metaforico, per rimandare a citazioni medioevali di varia natura, non solo femminile. Tu, femmina, hai peccato, tu sono rasta tutta la famiglia. Ebbene, stavo pensando di scrivere un best-sell intitolato Il nome del rosso, sì, sì, storia di scaramanzie, di scemezie, di nonette cattive, sì, sì, questi qui, questi, soprattutto qui a Bologna, abbiamo il dottor Malazzone a Bologna. Ma Dio Bonino, ma cos'è fa quel ragazzo? Ma nessuno gli dà qualche regola, bisogna mettere i paletti, ma quei paletti? I paletti bisogna metterli lì che infilo sempre nel sacco, diciamo, no? I paletti, io sto riconto di Dracula e te lo ficco nel cuore e anche dall'altra parte, nel cuo, ecco. Ma quello lì è che non è stato educato bene quel ragazzo, quel ragazzo sempre ha avuto dei problemi, è avuto dei problemi, ma è colpa dei genitori, è colpa dei genitori, se all'epoca gli davano due scopacioni, a Bologna dico due scopacioni, invece mi faccio tutta la scopacciata. Ma cosa fa quello lì? Trompa dalla mattina alla sera, ma sai? Sai perché dici così quello lì? Quello è invidioso, sì. Quello, oltre a non funzionare più il cervello, è da tempo che non gli funziona neanche quello, neanche quello, che fa rima, cervello quello. E allora è invidioso dei cazzi altrui, eh sì, dicevamo, c'è una papale papale, è in maniera poco papale, no, 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 è in maniera sana però poco santa, eh, si fa i cazzi degli altri, eh, si fa i cazzi, no, non se li fa, quelle se le fanno le donne, lui, eh, diciamo, è invidioso dei cazzi altrui, eh sì, è invidioso, e via perché visto che lui non, ma, 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 e dice agli altri che, eh, e invece noi, te, 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 invidiamo tutto il saccoccio, invidiamo di palle il buco, buca, sì, basta, scusate la tosse, ok, sì, molte oscurantistiche superstizioni popolari hanno sempre sostenuto che uomini come il sottoscritto, ovvero che i capelli rossicci, ma quello è un roscetto, un roscetto, senti donna, non mi piace quel roscetto che hai messo, quel roscetto è fucsia, mettilo viola, così, viola, viola, diventa tutto rosso, rosso, rosa, basta, fossero persone, persone altamente instabili caratterialmente, quello lì non gli devi dare quelle matte, quelle matte, non si sa mai cosa si può combinare, ma meglio che lo controllino, meglio che controllino te, che mi sa che da tempo, eh, quel, tu non ti alzi, ma manca se alza, eh, facile alla pazia, indotte geneticamente i DNA dal bulbo al color vermiglio, appunto a cadere vittima di strani, indecifrabili squilibri mentali, a quei tempi, i tempi, ove regnavano i sovrani, i regnanti, i regnanti, e adesso invece abbiamo i ragni, sì, 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 questi ti fanno tutta la ragnatella per inghiapettarti, no, non funziona così, ove regnavano i sovrani assolutisti, ma soprattutto in breve l'ignorenza è più breve, a questa assurda diceria e molta gente bigotte sprovvedute deve stupida udienza, come suol dire, mi dico udienza e mia eminenza, non solo le donne nubili venivano assi vive perché accusate di stregonerie, anche gli uomini che per questioni, adesso faccio calabrese, questione radattata dal livello cromosomico, non si attenevano i cani da ciamariana, venivano bruciate nel forno gramatore, e adesso faccio i siciliani, no, non quella di Auschwitz, quella del pregiudizio e del chiacchiericcio, discriminatore, partorietto dalla malattia mentale, della persona deficiente, se fosse nata in quella era copessa ma folla, avrebbero bussato a casa mia dei gendarmi, con tanti toni che in ero, venga, venga signor tenente, mi avrebbero imbavagliato, vabbagliato, adesso di nuovo pugliese, e ammanettandomi, facciamo anche il romanesco, no, questo sembra Freddi Mercoli, dopo, ma com'è il romanesco, io so solo, no, dopo servizie, facciamo il milanese, milanese, dopo servizie, è tortura fisica, le proporzioni inaudite, mi avrebbero tracinato, questo sembra anche un po' veneziano, al cospetto di un inquisitore fuori di te, e il piemontese come fa? Non fa proprio niente il piemontese, non si fa manco la, quella dell'Umbria, sì, 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 dove è stato ambientato questo nome della rosa, in Umbria? Bah, sì, sì, da quelle parti, sì, che dall'alto, così parlano invece questi bocchessi tromboni, dall'alto della sua maligna idiosia, il maligno in confronto a costrui, è un angelo buonissimo, mi avrebbe prescritto prima la gatta buia, se mi prescriveva solo la gatta era meglio, una cella di isolamento senza pane e acqua, dunque dopo avermi desidratato, è lasciato stremante solo come un povero Cristo, a cui solo urla e gemete, ah, ah, non piangere, non piangere, ma che piange? Mi sto a guardare questo film, mi fa tanto ridere, scusi, ecco, qua, qua, oddio, oddio, e qua sono romanesco, mi fa tanto ridere, e o, i gemiti spaventosi, e qua sono come Anna Magnani, quella, bella, mi sarebbero rimasti, per difendermi, e qui sono come Fabrizio Bentivoglio, del nome della rosa, per difendermi, dall'oscena persecuzione, mi avrebbe condotto sulla cima di una collina, ah, parla un po' così Bentivoglio, inaridendomi del tutto, invece Roberto Erlizca, sempre della serie, come parla Roberto Erlezca? Impallandomi fra rossissime fiamme voraci, che avrebbero essiccato ogni altro residuo grido di rabbia focosa, purtroppo no, nessuno ancora, fortunatamente, mi ha esposto a bruciante, ah, al pubblico l'udibrio, l'udibrio dell'agonia, di un popolo inferocieto, invece Sean Connery, con questo accento un po' scherziessino, assolito dalla pure purple cattyberry, in modo molto americano, ammarghero, ma molti si dovrebbero ugualmente vergognare, sì, molti episodi di ignoranza, parimenti, se non superiore, se non superiori, a quella, quella, da me, ivi, ivi descrittavi, ivi descrittavi, nella mia vita mi sono successi, e non è stato un successo, eh no, eh no, eh sì, mi ero ridotto come un gesso, scusi, eh no, perché, nonostante siamo nel nuovo, siamo nel nuovo millennio, gli artisti, le menti vivamente fervide, e gli spiriti liberi ancora, sono guardati con malocchio, eh, staci attenti, quello è un diverso, è un diverso, quello lì cos'è, ma quello lì non appartiene, alla nostra razza, stai attento, quello è un nero, quello è un ex comunitario, eh sì, eh, pelle mulatte, quelle rosce di capelli, no, 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 malocchio, malocchio, da questi esorcisti, probabilmente, soltanto la loro diabolica, demenza, ehi, demente, l'unico demente sei tu, panzone deficiente, e allora può succedere, che per emanciparsi, da tutta una serie di madornali, orendi equilioci, scatenati da quest'orda, e anche da questi orchi, di uomini bacchettoni, di donne, queste si stregonesche, con la loro invidia a pelle, con il loro bigottismo, figlio della loro cultura puritana, da moraliste frustrate, eh sì, queste sono frustate, sono frustate, da una vita, perché volevano diventare le dive di Hollywood, invece, fanno solo le ricide parocchiali, quindi, sono frustate, e naturalmente frustrate, perché, come ha detto il marito, per sconfiggere questi mangia preti, e mangia po', e mangia po', adesso sto scaraccio, ah ah, a bella, la serona, così presuntuosi, e un torri della giovinezza altrui, dall'ordata, con malevolenza sfacciata, sfacciata, con farisea l'ormenta, sai bacata, ecco, bacata è proprio bello, bacata sa proprio di Roberto Benigni, devi far capire a questi qua, a chi se no, che le tue sono scelte assennate, non d'asino, e che non sia affatto un semi e un uco monacale, come Venanzio, del nome della Rose, libro che verte sulla liceità, liceità, che cos'è la liceità? ah sì, ah sì, è quello, Deriso e la commedia allegra di Aristotele, che spesso veniva fraintessa, e tradotta come schizofrenia pericolosa, dalla derisione sciocca, poc'anzi illustratevi, cosa fai, mi ridi, ma perché ridi, cosa stai ridendo? Ma sì, serio, non farlo schizofrenico, dai, eh, guarda che c'è, ma tu provi a ridere un'altra volta, ti smalti, ma non è come, davvero, eh, ben sì, sei Aristoteles, sì, il nero, Urs, come si chiama? Alteus, Alteus, dell'allenatore nel pallone, fagli un culo così, urlè, volino benvi, e il fuoriclasse, dribblando con classe in mesa, ogni trappola ricattatore, ogni altro giochino di scherzo, fair play, ogni altro sgambetto, e come si suol dire, bastone tra le ruote, e bestioni stupidi, ora festeggia il trionfo, mentre gli stronzi, sono rimasti all'asciutto, e sanno solo continuare a offendere, per difendersi dalla figura del merda, au, davvero brutta, perché Aristoteles, si è dimostrato più veloce, anche con le palle, che è campione di razza, sì, di razza, è uno stallone, Aristoteles era un geniale pensatore, e ogni idiota, ogni tonto e ottuso, l'ha preso finalmente in quel posto, ogni cosa gli si è ritorta contro, e dichiaria, non mangerà neanche le torte, eh no, lui voleva tutto il pezzo della torta, dandole, rubando agli altri, eh no, adesso non avrà proprio niente, ed è chiarissimo che era solamente un banzone, dagli vedendissimi lapalissiani torti, e dalla bile stomachevole, da vecchio arrogandone, molto porco sporco, e questo è tutto, ammazza, se la sono andata a cercare, arriva sempre un punto, dove devi dire basta i bastardi, e zittirli una volta per tutti, anzi, una alla volta, e mo so palet so,